benvenuti nel mio canale di cucina oggi cucineremo delle polpette di pollo prendiamo un patto di pollo di circa 500 grammi lo tagliamo a pezzettini e poi lo mettiamo in un mixer aggiungiamo al petto di pollo due spicchi d'aglio tre cucchiai di passata di pomodoro quattro o cinque foglie di salvia un rametto di rosmarino un cucchiaino di paprika un pizzico di sale e un pizzico di pepe azioniamo il robot e frulliamo tutto dopo aver macinato il tutto andiamo a formare le nostre polpettine ora andiamo a cuocere le nostre polpette prendiamo una padella antiaderente e mettiamo dentro un giro d'olio mettiamo le polpette di pollo e le facciamo rosolare per benino e le facciamo rosolare per benino per 15 minuti ed ecco qua le nostre polpette di pollo pronte per essere gustate provate le mie polpette e fatemi sapere se vi sono piaciute lasciatemi un commento e mettete tante mi piace condividete il mio video con i vostri amici io vi aspetto al prossimo video ciao ciao da Gian ciao 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 ciao